Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Per lavori di pavimentazione, stanotte in orario 22.6 sarà chiusa l'entrata di Firenze in pruneta in direzione Roma. In FIPILI per lavori, stanotte in orario 22.6 saranno chiusi i tratti tra Empoli Est e Empoli in entrambe le direzioni. Per l'avviabilità cittadina a Firenze, via di Santa Marta resterà chiusa fino al 16 maggio da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!